Per la realizzazione del residence tematico La Casa di Margit, il geometra e proprietario si è ispirato al libro Specchio delle Stelle. I sei monolocali sono ottimamente attrezzati di angolo cottura, bagno, climatizzazione controllabile e da un curatissimo giardino all'italiana attrezzato con aria picnic e relax. Conosciamo i temi di questi bellissimi appartamenti. I pioppi, che richiama le sue radici. La Maison de l'Arte, ispirato all'arte. La Poesia, ispirato alle poesie. Les Jardins, dedicato al giardino. Les Voyagers, ispirato ai suoi viaggi. Specchio delle Stelle, dedicato al libro. Dunque, una forte attenzione allo stile, ma non solo. Proponiamo queste soluzioni immobiliari con un pacchetto utenze all inclusive, che comprende luce, acqua, gas, manutenzione caldaia, gestione giardino e parti comuni. In questo modo, gli abitanti sapranno con certezza i costi mensili fin da subito, senza spiacevoli sorprese. Fissa il tuo appuntamento sul posto contattando la sede dello studio immobiliare. Sono Fittilesio.